Ma che cazzo è successo, porca merda? Perché c'è una limousine qui? In casa? Ma che cazzo? Non lo so! Ma che cazzo sta succedendo? Eh? Ho un telefono? Oh cazzo! Pronto? Buongiorno, Sonic! Che cazzo è? Sentite, mi sono appena svegliato! Ho subito la sbordia, mi viene da vomitare! Aspetta un attimo! Che schifo! Che schifo! Che schifo! Sonic, sono io Mario! Come stai? Da quanto tempo non ti senti? Bene! Bene! Ti sento male però! Ti sento male? Che cazzo hai bevuto? Non lo so, mi sono risvegliato con una limousine in casa! Non è che ha sfondato il muro duro ieri notte? No, si è compenetrata nel muro! Si è compenetrata! E allora... Buongiorno, non saprei che cazzo stai facendo la... Che stai facendo? Ma quello sta sparando! No, voglio vedere se riesco a spostarlo! Però mi sembra che non funzioni! Ma se dici che è compenetrata nel muro non esce! Eh io ci provo comunque, no! Fa' attenzione che potrebbe esplodere! E' un consiglio! Poi non so, fai tutto! Hai ragione! Qua potrebbe saltare tutto in aria! Senti! Faccio un giro! Ma cazzo stai per esplodere! Dicevi! Senti! Da dove da tanto tempo non ci facciamo un giro? Ce lo facciamo? Ok! Sei di... Dimmi... Dove sei? Vivo allo Santos centro! Il centro di lo Santos! E sono a Las Venturas! Quindi devo fare tutto questo spazio! E devo prendere pure una macchina perché tu sei letto con... Senti! Facciamo una cosa! Mi faccio trovare alla... Alla... Alla mega villa di... Come cazzo si chiama? Mi sono dimenticato! Ehm... Dog qualcosa! O... 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 Dicite B! Vabbè! Qualsiasi cosa sia... Ci vediamo lì! Ok! Vabbè! Inizio a cercare una macchina! E ora dove cazzo ne trovo una macchina? Verranno a ridurre! Aspetta! Sono la cosa più veloce del mondo! Potrei... In teoria... Dovrei riuscire ad andare da qui... Fino al segno! Ok! Sono arrivato su un tetto! Bene! Forse questo è il posto! Cosa c'è? C'è arrivato o no? Sono partito cinque secondi fa! Sono già arrivato! Che c'è? Ma io non ti vedo! Forse perché sono fuori casa tua? Ho detto la villa grande e non casa mine! Non... Dove cazzo sei? Casa di CJ! Centro di... 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 Non dirmelo! Sei in un'altra casa! Ti sembro CJ io? Ah! Però qui vicino c'è la macchina! Quindi... Vabbè! Fregati! Io ti sto aspettando! No! Che hai visto? Un caro armato! Oh cazzo! Che figata! Oh cazzo! Salve! Un caro armato! Oh cazzo! Quando arrivi? Boh! Ci divertiremo un buonio! Dove sei? Ma sono inseguito dagli smiri! A quanto pare è legale guidare caramati in centro della città! Sto arrivando! Non ti vede! Ciao! Ciao! Ti seguo! Sono in gallerito! Ehi! In gallerie in palle! Ciao! Ciao! Cosa c'è? Pronto! Sonic? Sì? È arrivato? Non ho capito! Io sto girando al centro città con un caro armato! Ma non riesco a capire dove... Senti! È successo un casino! È successo un casino! Beh! Dimmi! Ehm... Non so come dire... Mi è entrato... Mi è entrato una buttata in casa! E allora? Come faccio a mandarla via? Ti aiuto io! Non c'è problema! Ho portato il caro armato apposta! Ehi! Mamma mia! E io ti ho tirato a marina però! Eh! E tu hai detto che è una puttana in casa! Io dovevo divarli col caro armato! Ma che cazzo ti sembra il caro armato? Dopo ti faccio vedere! Dov'è casa tua? Ah! Infatti ti vedo! E... C'è una... C'è una traversa sulla sinistra! No! Non è quella! Non ho bisogno di traverse! E' per casa via! C'è la traversa! Vi dentro! Esatto! Questa è la casa dove vi conto! Bella grossa! Dimmi in che stanza si trova la puttana! Ehm... Si trova... Si trova in... Da... Si trova nella finestra dove ti trovi tu adesso? Aspetta che me ne esco! Sono uscito dalla stanza! Fu ancora le ceneri! La miglior disperstazione dell'anno! E' morta! E' morta! E' morta! Sono... E' morta! Sono... Sono dietro di te! Sono dietro di te! Sono... O E' morta! No! Che cazzo c'è per sto cazzo che ha armato? Che cosa si importa da fondo eccetera? Ci sono gli spiri! Non lo so! Forti di sti cazzo di spiri forti! Perché li stai sbagando allora? Perché sei stato tu? Ecco, mi tocca! Vaffanculo tu! Andiamo? Senti, io... Sto morendo... Sto morendo... Perché hai bucato una ruota? Tu che hai bucato una ruota? Vabbè... Chiunque sia! Andiamo a prendere Schipper! Perché mi ha chiamato prima! Mi ha detto che... Ha chiamato anche me! Per cazzo il linguino di stava... Non sta mai là proprio sotto! Vai! Dove cazzo è afferente! Pronto! Ehm... Flipper! Dimmi! Eh, fu un Flipper! Vabbè! Che 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 c'è? Che ti volevo dire? A voi? Ma che gli sbirri li hanno arrestati? Ma che cazzo sono stati andando Sonic? Che che ne so? Appunto dove abiti? Perfetto! Ti dico che ha preso a fuoco la macchina che stava guidando! Ti dico che ha fatto esplode la macchina che stava guidando! Non ricordavo! Ragazzi! In ogni caso voi sapete dove trovarmi? Dove cazzo sei? Come... Quando l'ho fatto un incontro la nostra volta... Non lo so... Credo di doverlo legare e... Tagliarlo a fette! Pirri! Non sono capaci di fare niente! Ok grazie tazzo! Ho bisogno di questo! Adesso ricordo dove cazzo abita per deficiente! Dove? Fai impersonato! Perfetto! 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 Alla prossima attraversa! A sinistra! Sì ok! Destra! Sinistra! Sì che... Un po' di nuovo a destra! Non è divertente dire destra, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra! Finistra di nuovo! Abbiamo girato a destra! Destra! Ma lo fai apposta allora! Non lo so facendo apposta! Sì ecco qua! E qua qua! Un basso di schifo! Dove? Sopra sinistra! Sì questo qui! Un basso di schifo! Il portone sta lì! Ah! Ehm! Sì! Sì! Sì gentile! Che è un po' intrattabile quando vai a bussare! Ok! Chi è? Siamo noi! Ti stiamo aspettando! Ah! Finalmente ragazzo! Può tanto tempo si riesce ad arrivare! Sì! Ma ti vuoi muovere? Sì! Buttala a terra alla porta! Mi raccomando! Sfondala! Aspetta! Non chiedermi altro! Non fare niente se ci sto a cagare! Non fare niente! Fatto! No! Ah! Il culo! Il culo mi ha scritto nelle le mie due! Voglio uscire! Skipper! Cazzo scendi! Sì! Vado a ripossarlo! Ehi! Oh! Ho chiamato Pampieri che le mie case sono andate a fuoco per colpa di quella merda di persone! Sto scendendo! Scendi! Devi scendere! Senti! Mi esco fuori dalla macchina! E' chiaramente! C'era poco l'aria! La grande! Ciao! Cazzo! Cazzo! Cazzo ci mette! Cazzo! E' come qua mi cercavate ragazzi! Stavo aspettando! Ma che cazzo sono? ma che ci fai? sta piovendo sono aspettato in macchina posta io sono dovuto scendere che c'era giocchio stiamo arrivando e così non siamo non siamo veloce per me come dei soldi io sono pure ne certo sa sono vecchio mi faccio un culo mi faccio qualche musica decente no, che quale pronto come sta andata la rapina tutto bene fai i soldi? allora dove sei? forza ti sto aspettando, andiamo a forza se non ammesteggiamo con gratti e puntane forza, mi sto aspettando anche come non ci viene successo lo chiusa a chiave, mi lo beva troppi cojoni oggi mi metterò seduto ho 4 gocce di canale 5 volevo dire chanello numero 5 ma che cazzo è? sono Mario no, sono Mario non mi hai chiamato? che c'è? devo avervi di nuovo sbagliato numero questa è la quarta volta che chiami, le prime tre volte il presidente la quarta volta in mia moglie ti sta nel cesso scusò ho sbagliato chiamata bene, ci vediamo senti, ma che chiami? che stai facendo? niente, sto aspettando che mi portano i soldi dove? al cimitero giusto, è un fantasma, abito in un cimitero ovviamente vedete che andrà sulla casa, quindi non mi troverete mai ciao sempre molto che bella sorriso sempre molto gentile il nostro il nostro canico fantasma quasi 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 da ficcaio un fogliette giù per il culo che non ha il cimitero un lobo triste tutti schifano il cimitero quindi e allora gente portiamoci un po' di messo ma non a scorreggiare che cazzo mi investi tutto e che cazzo mamma che schifo ma anche te ma è schifo ma è schifo ma è schifo scusate se faccio si ma qua c'è un pinnacolo qua ci sono tolve qua non c'è nessuno davanti a sarà che vive lì qui no lì giù lì giù lì dentro lì dentro eh dentro il mausoleo si non so se un cazzo di mausoleo oppure no però state me la porta aperta qua non c'è niente aspettiamo dentro a queste cose si mi sa che è qua dentro sto sempre a dormire non siamo non sono l'herry non siamo l'herry non avete creduto alla storia che trasformate no non c'è nemmeno mai che facciamo non c'è nemmeno ancora la tira dovevo tenuti grazie ma che adesso ho lì che cos'è mente di fare no 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 è sempre uno spazio ma perché l'hai fatto perché è divertente ehi fantasma ma porca puttana ma si fa sapere che cazzo è in testa ma stava dormendo si è pronto è pronto perfetto possiamo che gran testa di cazzo vieni qua brutto pezzo di merda c'è una pezza di merda c'è una pezza di merda sta zitto sono sicuro di come siamo arrivati perché sono stato un poco confuso dai dai simogeni che ha sparato sonic ma che cazzo stavo facendo fermatevi dateci il pacchettino nooo non fai schifo prendiamo una macchina per cortesia io ne capivo che con voi non ci dovevo venire mi state di fronte no se volete l'incidente voi brava sonic vai vai a mano 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 ciao puoi fare una parte ecco dove siete fatto tu vedi sconto sconto noi andiamo qua eh ma diiii vai a mano vai a mano in giro in giro in giro devi stare ah guarda questa deve girare ahah ok andiamolo andiamo partiamo a mano che cosa si fa di vento? andiamo a farci un giro non lo so vogliamo fare un giro questo si chiama la maldita nooo nooo sei contento?! sei contento?! sei contento?! ma sei contento?! aiuto dove sei?! dove sei?! dove sei?! sono sotto che mi hai portato dall'altra parte della città devi andare a fare in cura te l'ho detto un sacco di volte perchè non mi stai mai a sentire e per il tuo bene e per l'umanità sono stato catapultato dall'altra parte della città ho visto partire con un sicuro senti io ci provo a tornare non so quanto quanto ci piegherò cosa farò cerco di prendere un veicolo attorno ok aspettatemi senti ti aspettiamo a una fattoria sonic ti aspettiamo davanti a una fattoria vediamo lì che è vicino accanto alla piccola città quindi semmai ci vediamo lì ok va bene ad un'altra poco ciao io non so niente di questo posto non so neanche come si guida una moto e non so neanche perché ho preso la moto ha detto fattoria 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 cartello non c'è niente quindi dovrebbe esserci una fattoria nei dintorni mi sono messo non mi trovo male a chiamare chi si chiama mario rispondi dai rispondi 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 oh eccolo pronto mario qui è la fattoria non so dove sono e non so dove si trova ascoltami qui c'è il fantasma che si è andato c'è schifo perché sta pesciando nel fiume non so perché i punti vabbè stai presente dove siamo caduti in acqua no sono stato data portato dall'altra parte del mondo e poi c'era un fiume lì e questo fiume non ti vedo non credo sia questo non credo sia dove sia tu hai ragione non sono neanche il cimpe ma vedo un fiume che è dritto con degli alberi grossi e io sono caduto da segui il fiume ok e se stai andando verso la sventura no dall'altra parte di questi gianti indietro ok come faccio a capire se sto andando alla sventura se non ci trovo nient'altro giusto stai andando sotto un ponte sei passato sotto un ponte si devi tornare indietro allora ok forse sto per cadere di sotto sto cadendo di sotto aiuto senti io sono su un ponte c'è della gente e vedo una fattoria ma non capisco mi sembra che è quel sì aspetta non c'è un attimo lasciate un'altra parte mi vedi? a sei tu si sei tu forse con un busto ce lo posso oh cazzo ce l'ho fatta we salve 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 ora ti voglio dire solo una cosa te pozzi da ma che cazzo fai ma capissima che cazzo faccio alla fine butt好了 in realtà hai stersato troppo quando abbiamo usato un po' quando mi utilizziamo un po' minchia no 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 sì 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 la mia zona è un'altra oi non happens no no casino ma m oh sì ma cazzo Oh si! Mi sono già inserito rimbalzato ragazzi! Oh si ragazzi! Oh yeah! Lo stiamo accadendo ma questo è classica musica del tempo! Oh yeah ragazzi! Oh si! Tutta questa musica ragazzi mi fa scantenare! Questa musica mi fa... Shhh! Shhh! No 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 la razza mi dice... Oh ragazzi no no! C'è che posso dire? Uminchia! Uminchia! Aia! Ci buttiamo fuori dal lato! Senti a che vi diamo Uminchia! Uminchia! Oddio! Dove è stato? Chi? Dav'è la mia puttana? Dav'è la mia puttana? Perché la facciamo? Ma pure per un cavolo! Nooo! Aspetta ma dove è il Fantasma? Fantasma dove sei? Dove sei? Non ti vediamo! Fantasma dove sei? Non riesco a trovarlo infatti! Fantasma? Dove sei? E' nelle nostre menti! E' morto! E' morto durante l'esplosione! Ma mori tu c***o! Sarà qui! Non c'è vedi! Sonic dove sei! Il suo cadavere! E' là in fondo! Il suo cadavere! Sono stata morta! Sono qui! Vieni a prendere! Vabbè i funerali li facciamo domani ok? Brutto un pezzo di merda! Torna qui! Mi porti molto in fantasma! Torna subito qui! Lo seppelliremo così come gli è piaciuto vivere! Wow! E' come se sentiste proprio la mia voce! Ma in realtà sono vivo dai piccetti! Venitevi a prendere mi sono fatto male! Posso dargli io il contigio? Vai! Uno! Mi aiutate per favore! Due! Sono qui! Tre! Aaaaaaah! Ci mancherà tanto! No aspetta! L'estremo saluto! Il ho e contento questo! 예 Lipo! Give me donna case! Ch manti rispito! Pick up!